Buongiorno, sono Teresa Maria Caputo del TGLT4Glob Flash News. Passiamo ora alle notizie. Veneto Orientale ha VEGAL il premio per la modalità sostenibile 2024. È andato a VEGAL l'Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale, il premio per la mobilità sostenibile 2024, grazie al Master Plan della Venezia Orientale. Il riconoscimento è stato consegnato oggi a Trieste in occasione della seconda edizione del premio per la sostenibilità iniziativa promossa dal GCT EU Regio Senza Confini e rivolta a enti pubblici ed enti di diritto pubblico della Regione Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia, promotori di progetti che avessero favorito il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. La cerimonia di consegna dei premi si è tenuta nel Salone di rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a Trieste ed è stata inaugurata dai saluti istituzionali di Peter Kaiser, presidente del LEND Carinzia, Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Federico Caner, assessore a Fondi UE, Turismo, Agricoltura, Commercio Estero della Regione Veneto. Il progetto di Vegal, premiato il Master Plan della Mobilità Sostenibile della Venezia Orientale, è uno strumento di pianificazione e gestione di un sistema integrato e sostenibile di mobilità dell'area del Veneto orientale, realizzato in due fasi, dal 2019 al 2020, su incarico del Comune di Sandona di Piave, con il supporto finanziario della LR numero 16 sbarra 1993 della Regione del Veneto. L'obiettivo generale del Master Plan è stato quello di favorire una nuova mobilità con spostamenti intelligenti e con risultati climatici e ambientali, stimati in una riduzione di 340 km all'anno di percorsi in auto, una riduzione di 27.200 litri di carburante di 55 tonnellate di CO2, di 167 di CO, 144 di inox e 10 kg di PM10. Nella realizzazione della Master Plan è stato innovativo l'approccio sviluppato a livello di integrazione di diversi progetti da quelli sovraccali, fino a quelli interregionali, che hanno tenuto conto anche degli oltri 200 punti di interesse mappati sul territorio, ville, venete, mulini, manufatti della bonifica, edifici rurari, borghi e centri storici, edifici regionali, manufatti di vita collettiva, punti di interesse legati alla ruralità PSL-FASR 2007-13 e 2014-22 e alla friulanità Interregio Italia-Slovenia 2014-20 primis, e infine che hanno permesso anche l'inserimento del sistema di itinerari nel Ecomuseo Acqua, riconosciuto dalla Regione Veneto nel 2021. 9 in totale vincitori del premio, 3 per ogni regione appartenente al GCT, e un regio senza confini, Friuli, Venezia e Giulia, Veneto e Carinzia. Oltre a Vegal, sono stati premiati i comuni di Turriaco, Aries, Camera di Commercio, Venezia, Giulia e Trieste e Gorizia, Comune di Pordenone, Università Ca' Foscali, ARPav, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, NLW, Tourismus, Marketing, GMBH, Agenzia di Marketing e Turismo, Biospa Rainpark, Kartner, Nockberghe, Parco della Biosfera della Carinzia, Nockberghe e Region Village, Tourismus, GMBH, ente turistico. Vegal è stata inoltre identificata, assieme agli altri premiati, come ambasciatore della sostenibilità rafforzata, ampliando così una rete di trasformabilità, che si è instaurata grazie alla prima edizione del premio. I premi, Vegal utilizzerà le risorse per un aggiornamento del masterplan, alla luce e anche delle progettualità già arrivate. La ciclabile è a sbalzo lungo il porto Deglio, a Cavallino. Tre porti, la progettazione e realizzazione delle ciclabili di Pellestrina, Lido di Venezia, Di Mestre, Tessera Marcon, Quarto Daltino, del Terminal di Punta, Sabion della Ciclovia, Trieste, Lignano, Venezia, della ciclabile dal treno al mare, delle connessioni urbane della Ciclovia, Trieste, Lignano, Venezia, Green Tour, verso Iesolo e delle progettualità di nuove ciclabili, previste a cura del Consorzio di Bonifica Veneto-Orientale. Concludendo questo TG, io vi saluto a voi telespettatori e vi aspetto alle prossime notizie.